Contropiede, è parata, parata dal nostro bravo portiere Matteo Dottavio, una palla pericolosissima ha atterrato il nostro calciatore al limite dell'aria il direttore di gara ci concede una punizione dal limite sulla palla ecco uno schema studiato in allenamento Rete, Rete, Rete chi l'ha fatto? Pitbull? chi l'ha fatto il gol? Pitbull, Lorenzo Cuniberti ha rientro dopo una sosta per malattia ha segnato la quarta rete della gara allora esce Federico e Lorenzo Federico c'è il 3 Federico e Lorenzo fuori tutti e due entra il 16 al centro campo allora Federico e Lorenzo fuori aspetta il 16, aspetta al posto entra il numero 6 Nico ha fatto sballo con il gol ok due cambi effettuato ok due cambi fatto bravo